Musica Un tavolo di lavoro per la trasparenza in Finpiemonte Via libera alla legge che tutela il commercio storico Soundcheck con Liga V per i vincitori del concorso Le Note del Cuore Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Il Consiglio regionale vuole occuparsi di più della gestione di Finpiemonte Per questo approvato a scrutinio segreto un ordine del giorno che istituisce un tavolo di lavoro Il Consiglio regionale si impegna a istituire un tavolo di lavoro su Finpiemonte Per garantire una maggiore trasparenza ai cittadini e alle imprese E migliorarne la gestione attraverso una compartecipazione sana tra tutte le forze politiche Così stabilisce un ordine del giorno approvato a maggioranza a scrutinio segreto Presentato da Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle Questa modalità di votazione che deve essere richiesta da almeno un sesto dei consiglieri È stata presentata dai gruppi di opposizione Sono stati approvati anche altri due atti di indirizzo La mozione è presentata da Alessandro Stecco, Lega, per la creazione di una cabina di regia interistituzionale Per ottimizzare le misure di erogazione di servizi sociosanitari delle aree interne e disagiate E quella presentata da Domenico Rossi, Partito Democratico, per l'avvio dell'ITER Per il mando di assegnazione per il riutilizzo sociale del Castello di Miasino Tutela del commercio storico via libera al disegno di legge in favore delle attività di antiche tradizioni Tutela dei luoghi storici del commercio in Piemonte Con il sostegno alle attività commerciali che continuano a essere tramandate di generazione in generazione Legate al territorio e alle sue tradizioni Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti, 26 sì e 17 non partecipanti al voto Il disegno di legge della Giunta che modifica la legge regionale sul commercio 28 del 1999 Un provvedimento che attiene alla valorizzazione dei mercati di valenza storica e storica di tradizione Il provvedimento, come ha ribadito il relatore di maggioranza Federico Perugini, lega Tutela i mercati di valore storico che si svolgono da almeno 70 anni I mercati di valore storico di tradizione, 40 anni E i caffè storici, da sempre considerati un'eccellenza del Piemonte in tutte le province Andare a valorizzare mercati e caffè storici sia nelle conurbazioni, nelle grandi città Così come nei piccoli comuni ce ne sono molti Sono portatori di valori, tradizioni e di un'eccellenza del nostro Piemonte Nel dibattito sono intervenuti Monica Canalis, Domenico Ravetti, Diego Sarno e Alberto Avetta Partito Democratico e Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi Che pur condividendo i contenuti del provvedimento Hanno lamentato la mancanza di risorse finanziarie a disposizione Noi abbiamo chiesto certezze Quindi oltre le intenzioni, oltre il manifesto delle buone intenzioni Anche le risorse economiche a favore di mercati storici e caffè storici L'assessore ci ha detto che se andrà in quel senso Volevamo soltanto qualche certezza nella legge Nelle dichiarazioni di voto, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle Ha affermato che ci sono anche altre realtà commerciali da valorizzare Adeguamento delle leggi regionali Approvate alcune modifiche alle norme piemontesi concordate con i vari ministeri Piccole correzioni e modifiche alle leggi regionali concordate con il governo Questo l'oggetto del DDL intitolato Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali Approvato all'unanimità dei votanti dal Consiglio E presentato dall'assessore Maurizio Marrone Come ha spiegato il relatore di maggioranza Federico Perugini Lega, il testo recepisce sul piano legislativo Gli impegni assunti dal presidente della Giunta Al fine di evitare le impugnative del governo In relazione alla presunta illegittimità delle norme di alcune leggi regionali Gli articoli inseriti nel disegno di legge recepiscono le osservazioni dei vari ministeri In materia di trasporto pubblico non di linea Disciplina delle attività estrattive Attività di tatuaggio e piercing Espropriazione per pubblica utilità e disciplina Sulla conformità degli aiuti di Stato Il testo è stato poi integrato durante l'esame Nelle commissioni prima e settima Da altri 13 emendamenti dell'esecutivo In materia di servizio di psicologia scolastica E percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale Come relatore d'opposizione è intervenuto brevemente Domenico Ravetti Partito Democratico Approvati anche alcuni emendamenti tecnici Presentati da Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle Sono stati aggiunti e approvati durante la seduta Diversi emendamenti di giunta 7 milioni di euro stanziati a sostegno di progetti per l'autismo Lo ha comunicato l'assessore Maurizio Marrone Rispondendo a un question time di Domenico Rossi, Partito Democratico Quante risorse statali sono state destinate al Piemonte dal fondo Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico E come sono state utilizzate? Questo è il tema dell'interrogazione che il consigliere Domenico Rossi Partito Democratico ha rivolto alla giunta regionale Il Piemonte potrà disporre di circa 7 milioni di euro Per la realizzazione di progetti e iniziative a favore dell'inclusione Dei soggetti con disturbo dello spettro autistico E quanto riportato in aula dall'assessore alle politiche sociali E dell'integrazione sociosanitaria Maurizio Marrone Che rispondendo al question time Ha specificato che tre sono i filoni di intervento individuati Interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida Sui disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità Progetti che si rivolgono al terzo settore Per favorire l'inclusione attraverso attività sociali Sport e tempo ricreativo Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari Che assistono persone con disturbi dello spettro autistico Soundcheck con Liga Bue per i ragazzi e le ragazze Che hanno vinto il concorso Le note del cuore 2023 E' stato un pomeriggio speciale Quello vissuto domenica dai ragazzi dell'Istituto Musicale La Grange di Vercelli Vincitori del concorso Le note del cuore 2023 Promosso dagli stati generali della prevenzione e del benessere Del consiglio regionale del Piemonte In collaborazione con la nazionale italiana cantanti E la partita del cuore Gli studenti e le studentesse hanno assistito Al soundcheck del concerto di Luciano Liga Bue Al Palalpitour di Turino La partecipazione è sicuramente interessante e molto stimolante Perché ci ritroviamo noi ragazzi dal banco Siamo abituati a seguire le lezioni e tutto A comporre, a fare quello che vediamo fatto dai grandi Ci hanno lasciato la nostra buona dose di autonomia Nonostante c'è stato poi comunque il controllo dei docenti E la cosa più bella è stata ritrovarsi insieme Decidere la nostra base, il nostro testo Ad accompagnare i ragazzi due componenti della giuria di concorso Il cantante degli statuto Oscar Gianmarinaro E l'autore e regista Giulio Graglia I ragazzi che hanno vinto Quest'oggi li portiamo ad ascoltare il soundcheck Di un grande artista come Liga Bue Un concerto di una grossa produzione Quindi avranno modo di capire tanto come si prova Poi come funziona la parte dell'audio La parte delle luci Che cosa chiedono gli artisti quando provano Un momento entusiasmante per i ragazzi Ma il concorso è stato molto importante per loro Perché si sono cimentati in cose Che normalmente rimarrebbero forse più teoriche E invece così diventano la base di una creatività costruttiva E quindi che dire oggi è proprio una giornata di festa Perché insomma concerto con il Liga lì davanti Non è che succede a tutti Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti Sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti